Integrazione è un termine che viene usato sia per l'immigrazione che per i portatori di handicap. Ma cosa succede quando sono immigrati e portatori di handicap allo stesso tempo? Quella che viene definita doppia discriminazione, cioè c'è una condizione ordinaria di discriminazione come quella della disabilità o al contrario dell'immigrazione si associa un'altra discriminazione. Una persona con disabilità oggi ha delle difficoltà oggettive a poter frequentare la scuola, l'università, a entrare nel mercato del lavoro, piuttosto che avere servizi di assistenza. È chiaro che quando si associa anche l'essere immigrati questo comporta un'ulteriore difficoltà. Ma perché è un tema poco affrontato? Perché sembra che non esista fondamentalmente. Ci sono alcuni temi che nel nostro paese c'è la sensazione che siano dimenticati.